Oh Benvenuti alla seconda stagione degli Ultra Hunger Games Ok, stiamo per iniziare Solo le nostre ceste, mi raccomando Ma quali sono le novità di quest'anno? Pioggia, ci dà! Qua sotto, qua sotto, qua sotto No! No! Non siete elettrizzati! Ahahahah C'è qualcuno? Non mi uccidere! Diamanti Arriva, arriva! Oh, è cresciuto l'albero! Ahahahah Il conclusion will not be televised